Caro Piero, una volta Giorgio Gaber ci aveva nei suoi spettacoli bellissimi una canzone che diceva destra e sinistra, cos'è fascista e cos'è comunista, la doccia è di sinistra e il bagno è di destra, la cotoletta è di... no? Sì, perché era più semplice in quel modo, capito? Perché sennò tanto, almeno la doccia e il bagno, loro non ripetevano, dicevano andava tutto bene, mentre invece oggi, visto no? Anche perché oggi parecchio non se lavano, non se lavano, quindi non se sarebbe... Eh, bravo, sì, bisognerebbe che se lavassero l'anima. Quello che a me mi dispiace è che il saluto che viene definito fascista per errore, esatto, che è il saluto romano, cioè... E questo così invece che... È il saluto comunista oggi, però la mia domanda è perché proibire il saluto romano rinnegando la nostra storia, perché il saluto romano, Ave Cesare, era anche igienico, perché non ti toccavi le mani. Ah, ecco, 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 c'è che... Ah, vabbè, no, ora, a dire la verità... Ma hai capito o fai finta di aver capito? Perché mi sembra che tu non abbia capito una sega. Ho capito tutto, ma io penso che invece, che invece, siccome ora siamo spesso a toccarsi altre parti del corpo, allora dopo la gente non... Non ti fai le seghe ancora? No, no. Ah, ne ho capito. No, no. Perché la faccia l'è da segaiolo. No, ma come si fa con questo qui? Come si fa? C'ha sempre le parolacce, sempre lui, sempre... Hai capito? Cioè, allora, se uno fa... Poi dopo... È una parolaccia? Allora, prendi le mani, allungale qui. No, no, per farti vedere le dimensioni. Esatto. Le vie. Signore, l'ha fatte lunghe così? Le mani. Per poteste toccare. No. Se le seghe non si devono fare, ti faccia i bracci di così? No, per andare a farla più piccola. Io, va a casa, dai. Per andare a farla più piccola. Che mi sia venuta a noi. No, no.